Benvenuti da Naro Sensei Puntata oggi dedicata a uno dei miei followers più accaniti il buon Rock is Dead che mi ha fatto conoscere un bellissimo programma che non conoscevo e che reputo veramente molto utile si tratta di Dr. Phone un programma in grado di sistemare sia Apple sia Android si possono fare un sacco di cose si possono recuperare i dati si possono fare il backup e ripristino copia tra due telefoni gestione dati da PC si può riparare il sistema operativo infatti basta inserire il modello esatto e lui scarica il software corretto dopodiché lo installa dentro il sistema operativo dentro il cellulare potete cancellare i dati sbloccare il telefono se vi siete dimenticati ad esempio la combinazione del blocco a schermo e potete anche sistemare le conversazioni di Whatsapp e tantissimo altro tutto quello che avete bisogno è di scaricarlo e collegare il computer col cellulare attraverso il classico cavetto apposito potete fare veramente di tutto e qua c'è scritto nel sito ufficiale c'è scritto ogni cosa se andate qua per dire su Dr. Phone per Android ci sono anche tutti i tutorial ok? quindi caso per caso vi spiega come fare ad ogni modo è molto molto semplice perché basta aprirlo per rendersi conto che funziona cioè vi fa comunque passo passo l'unica cosa l'unica pecca che può avere è che è a pagamento ok? e se non vado a rato costa 60-70 euro come programma e voi scaricate questo bellissimo file che vi do e come sempre grazie alla magica parola Anaru in estrazione con WinRar mi raccomando l'ultima versione così non avete problemi vi ritrovate un bellissimo Dr. Phone craccato ok? palesemente tasto destro esegui come amministratore date conferma quando ve lo chiede creerà tutti quanti i tutti quanti i dati le cartelle eccetera per la l'avvio il primo avvio ok? questa cartella qua la potete mettere dove volete dentro download dentro documenti dentro programmi come volete la prima schermata si presenta così ed è in inglese vi basterà selezionare le righette andare su language e scrivere italiano a questo punto avete tutto quanto a portata di mano e in italiano quindi riparare il sistema operativo sbloccare cancellare trasferimento recupero ripristino di tutto è un'applicazione veramente molto molto bella per dire avete problemi sul blocco schermo andate su sblocca collegate il cellulare al computer col cavetto e dopo di che vi basta semplicemente selezionare passo passo il problema schermata bloccata di android schermata bloccata di yos o di apple quindi andate dove volete cliccate vi fa seguire il tutorial e siete a posto è veramente una stupidaggine quindi tanta 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 roba se siete bravi e onesti potete comprarlo legalmente e dare i soldini ai buoni programmatori che l'hanno inventato altrimenti potete utilizzarlo tranquillamente questo questa bellissima versione che vi propongo e magari iscrivetevi al canale se avete dubbi domande o altro resto a disposizione mi sembra aver detto tutto alla prossima puntata bye bye